questo è il banco della anna maria moda giovane come potete vedere un banco coloratissimo eccolo allora le proposte di oggi di anna maria moda giovane orecchini di sabina uno smocchi di bijoux eccola qua vedete eccolo qua modello di anna maria moda giovane scusatemi con la collana di sabina non smocchi di bijoux nitte al mercato mercoledì e sabato potete toccare con mano tutto ciò che vi piace di anna maria moda giovane possiamo non farvi vedere l'accessorio che accompagna che accompagna che accompagna l'abbigliamento uomo e donna questo è credo il banco più bello della emilia romagna è più completo per quel che concerne l'accessorio la cintura è veramente completo sia sul classico che sullo sportivo uomo e donna lavorazione artigianale cinture veramente di qualità sia nella nella qualità della pelle che nella qualità della mano d'opera veramente prodotti nuovi bellissimi di tendenza alla moda per i giovani e classici per chi vuol continuare a vestirsi in maniera classica abbiamo anche un vasto assortimento di portafogli portamonete naturalmente e tassativamente tutti in pelle e di buona fattura direi ottima fattura prodotto artigianale anche questo al mercato di cesena via via pio battistini questo è un altro banco bellissimo via pio battistini ma della cri che qui stiamo riprendendo che è praticamente l'artefice di tutto quello che di quasi tutto quello che c'è su questo banco specialmente gonne quindi sistemi la sciarpa come la metterosità pantaloni sciarpe praticamente tutto tutto bellissimo fatto da ma della cri guardate che bella sciarpa molto particolare molto elegante che sta indossando sabina guardate che bei colori sono cose che potete trovare solamente al banco di madre alla cri perché sono prodotti che fa esclusivamente la cristina per il suo bellissimo banco eccolo qua abbiamo anche fasce personalizzate per i capelli stupende cose uniche che ormai non si trovano più ma per fortuna c'è ancora chi ha voglia di mettersi in gioco e di fare dell'artigianato artigianato che piano piano speriamo possa riprendere campo qua in italia quasi perfetta va benissimo ecco qua diciamo che mancando lo specchio abbiamo fatto anche un bel lavoro notiamo anche come stanno bene questi orecchini che danno un po di tono a tutto e anche alla fascia per capelli molto bella molto bella e vi consigliamo un attimo che proviamo anche una giacca fatta proprio di fare un giro al mercato ai mercato di cesena il mercoledì o sabato scegliete voi perché le banchette e le bancarelle sono belle sia il mercoledì che il sabato potete trovare professionalità da parte dei venditori dei buoni consigli su come vestirvi ripeto tutti i prodotti unici fatti con le mani di ma della crì della cristina una bancarella veramente unica in tutto il mercato di cesena delle domeniche straordinarie a cesena sono il 31 marzo tutto il giorno domenica quindi la prossima domenica siamo qua ad aspettarvi e chi non può venire il 31 marzo o chi vuol venire due volte noi siamo ben felici il 14 aprile domenica tutto il giorno qua al mercato di cesena buongiorno adesso vediamo questo nuovo capo della banco anna maria moda giovane qui a cesena in via pio battistini una via piena di belle bancarelle dove c'è abbigliamento uomo donna e accessori uomo donna veramente belli e quindi dove tu puoi toccare puoi provare e poi divertirti non solo nel provare e nell'acquistare ma anche a farti consigliare dalla competenza delle persone che sono anni che fanno questo lavoro anche quello che c'è dentro eccomi qua eccomi qua perfetto grazie come vedete abbiamo anche una indossatrice molto sfacciata in senso buono molto simpatica che non fa male per questi servizi ecco questo è ancora il banco della sabina ricordatevi che il piccolo commercio è il cuore della nostra amata Italia e il 31 marzo ci sarà una domenica straordinaria dove voi potete venire a comprare alla mattina o al pomeriggio perché ci saremo tutto il giorno per chi non può venire il 31 marzo abbiamo un'altra domenica straordinaria il 14 aprile una domenica a disposizione per la nostra clientela vi aspettiamo al mercato di cesena domenica 31 marzo e domenica 14 aprile al mercato di cesena ciao a tutti tutti i mercoledì e sabato mattina e prima di pasqua domenica 31 marzo dalle 8 di mattina alle 8 di sera e domenica 14 aprile dalle 8 di mattina alle 8 di sera per il vostro shopping primavera estate ciao a tutti da gioia Emilia Romagna Grazie.